ragazzi se io sono stupido non è colpa mia per cosa per il video caricato prima magari alcuni sono accorti mentre altri no ma sono accorto adesso grazie perché ho appena visto un indizio sul mio video caricato di fortnite non quello che voi sapete adesso neanche quello che avete visto prima ma comunque fortnite hashtag 25 se non sbaglio ok parlavo di rocket league nel live non ho fatto nessun video del 6 agosto ragazzi perdonatemi è che ero malato e quindi non ho voluto fare video di fortnite comunque adesso come ho detto nel video prima sono guarito spero che google non si accenda andiamo con la news del 6 agosto in trepa news e benvenuti ragazzi io sono cilietto e oggi do il benissimo episodio di fortnite dopo aver fatto un casino mi ho detto prima l'ultima volta il 19 agosto e poi vabbè oggi vi posso leggere con il raffreddore possiamo dire che è quasi quasi passato tutte le news del 6 agosto quali news tranne il salve al mondo quindi questo qua no quindi 1 2 3 e 4 news pregate per me per il caldo alternamento di fortnite cattivo versione 21.40 16 8 2022 da il team di fortnite l'aggiornamento 21.40 traduce il nuovo dispositivo caricamento livello la galleria primitiva alfabeto e nuovi pezzi delle gallerie fortnite deserta caricamento livello con il dispositivo caricamento livello oh ragazzi sono tratto su cellulare e suona anche bene quindi le cose in azzurro dovrei un po' le clicco quindi il dispositivo caricamento livello può suonare i livelli che è creato e salvato con il dispositivo istanza livello quindi sposta ruota quindi sposta ruota o in pila ripeto uno sopra l'altro il dispositivo livello livello boh qualcosa ok è possibile posizionare i livelli che è creato e salvato con il dispositivo livello istanza è possibile posizionare il dispositivo livello livello su off grid ruotarlo in qualsiasi angola azione e persino posizionarlo sopra un altro dispositivo livello loader questo è la più possibilità quando posizioni livello sull'isola ecco alcuni esempi di come è possibile utilizzare questo dispositivo c'è edifici modulare che hanno ogni pezzo modulare nel dispositivo livello di instance e salvandolo come livello quindi utilizzare il livello oltre per posizionare e combinare i diversi pezzi modulare in strutture uniche crea salva ogni livello di una struttura a più piani con il dispositivo livello di instance quindi in pilali in edifici con livello crea una galleria personalizzata di pezzi e oggetti di scene utilizzando il dispositivo istanza e livello salva come livello quindi usa delle gallerie personalizzate con il dispositivo caricatore di livelli note qualsiasi pezzo da costruzione in un livello utilizzato in un dispositivo livello quindi automaticamente trasformato in un puntello ciò significa che non si agganciano alla ghiglia dell'isola e significa che anche quelle strutture non supportano i pezzi di costruzione del giocatore ricerca il posizionamento del dispositivo dalla modalità crea apriamo il tasto tab tab e per computer vabbè per aprire la schermata e per inventare creative per aprire la schermata a modalità crea se lo clicco e per aprire la schermata che è una cosa che deve essere che non lo trova questo quindi indietro ok Non lo trova Perché C'è qualcosa a caso Spero che viene tutto in italiano Ok Oh, si è bugato tutto Boh, uscivo una qualcosa Ma secondo me mi cresce anche la cosa Quindi Ok Puoi posizionare Sto appunto Sono tornato Quindi, ok Puoi posizionare il positivo che è un livello spazzato Rispetto alla griglia O ruotarlo a qualsiasi regolazione Per posizionarlo su un altro dispositivo Caricamento a livello Quando ti offre maggiore flessibilità Quando posizioni livelli su un'isola Hai costruito qualcosa che vuoi utilizzare in più punti Con l'affrancamento griglia di attivato Puoi farlo con il caricamento a livello Puoi persino nascondere o mostrare Genericamente qualsiasi dispositivo Caricamento a livello E i suoi contenuti In base alle azioni E i giocatori Come prendere un pulsante O ai segnali di altri dispositivi Galleria e state di ordinaria amministrazione Nel caso ve la fosse persa La galleria e state di generale amministrazione È stata aggiunta di recente a forza del creativo Con questa galleria puoi aggiungere All'utilizzo l'oggetto di cineografia Camoncini del gelato L'oggetto raccogliabile E l'oggetto consumabile Prefabricate gallerie Sobborge scalcinati Primordiali Di recente abbiamo aggiunto Anche contenuti Prefabricati Con 5 nuovi Prefabricati E 3 nuove gallerie Prefabricati Sobborge scalcinati Negosio di sobborge scalcinati Piane di altri Sobborge scalcinati Municipio di sobborge scalcinati Esibuttori di benzine Di sobborge scalcinati E torri dell'orologio Di sobborge scalcinati Galleria di sobborge scalcinati Galleria Galleria Muro Sobborge scalcinati E galleria oggetti Sobborge scalcinati Galleria Affabricato Primitivo Lettere I numeri La patch 21.4 Vosti.com Introduce una nuova galleria Affabricato Primitivo Che contiene Lettere e numeri Tutte le lettere E i numeri Possono usare Gli stessi colori E gli stessi text Di qualsiasi altra Galleria Affabricato Primitivo Ultimi aggiornamenti Aggiornamenti Fabricati Galleria Galleria Affabricato Primitivo Ok Galleria Affabricato Primitivo E aggiunte Alle gallerie Fortezze Deserte Galleria Galleria Fortezze Deserta Aggiunti Quattro oggetti In mattoni Curvi Alla galleria Orgetti Fortezze Deserta Aggiunti Cinque muri E tre Definiture Curve Nel balcone Galleria Muro Fortezza E aggiunti Propriamento Curvo E la scala curva Alla galleria Affabricato E scale Fortezza Deserta Aggiornamenti Spositivi Le impostazioni Prefinite Della Walla Celeste Ora simulano Meglio Le 12 Delle impostazioni La misura Le 12 Mezzogiorno Dipende La Walla Celeste Ha una Nuova Opzione Post Processing Post Processing Che consente Modifiche visive Per migliorare Determinati Look I valori Sono i seguenti Mattino Giorno Per definito Sera Notte Classica Sì Ricinale Il Tassatore Oggetti Ora funziona Con più Positivi Ecco I Positivi Aggiunti Che Può Usare Con il Positivo Tassatore Oggetti Barriera Generatore Oggetti Di cattura Cadere Consumabile Personalizzabile Potenzamento Amplificatore E danno Volumi Di danni Potenzamento A manovella Potenzamento Salute Indicatore Mappa Riferimento Giocatore Punto Di controllo Gara E orologio In tempo Reale Agionamenti Modelli Isola Novità Modello Isola Crea Una gara Di parkour Aliminazione E Novità Modello Isola Progetta Un gioco Di caccia All'oggetto Correzioni Dei bug Correzioni Sumento Telefono Ora L'area Di posizionamento Dell'oggetto Viene visualizzata Subito dopo aver cambiato Oggetto Utilizzando la barra Veloce Correzioni Per pubblicate Gallerie Il tag di ricerca Il quartiere 2.0 E' stato rimosso Dalle gallerie Di pinnacoli Pendenti Risolto Il problema Di bassa distanza Di visualizzazione Con le pareti Fluttuanti Sugli oggetti Della galleria Sette Di ordine Di amministrazione Risolto Un problema Di collisione Dei proiettili Con una delle risorse Di decorazione Della galleria Nuo Forzata Deserta Risolto Un problema Di selezione Con il telefono Con alcune risorse Di recensione Della galleria Durrburger Risolto Il problema Della galleria Da gara Della galleria Pista Da gara H nativo A iconifica Da vedere O le recensioni Della galleria Durrburger Possono essere Distrutte Corrette Nuo Esegno Della galleria Oggetti Albero Coccoloso Risolto Un problema Per cui Le luci militari Si disabilitate Venivano Obligitate Di un uomo Quando venivano Copiate Ed Incollate Correzioni Agli dispositivi Sotto Il problema Il dispositivo Tra tutti oggetti Ora può Indicare Correttamente Con la piattaforma Fluttuante E quale Presente Una risorsa Sulla piattaforma Rimostra Il messaggio Personalizza Se il dispositivo Ti trasporta Durante la fase Prepartita Il dispositivo Manipolazione Di oggetti Non costringe Più I giocatori All'attraversare Gli oggetti Dopo Veri posizionato Più Più All'interno Di un dispositivo Di consegne Di fornimento Di un giocatore Possibile La stessa quantità Di munizioni Di soli Immagazionato Del minigioco Corretta La riscrizione Del dispositivo Contattori Con giocatori Ok Il caso di giocatori Include Gli spettatori Quando l'opzione Include Inclutata Su sì Corretta L'opzione Doma Alla riscrizione Che dà Nel dispositivo Di un giocatore Ma rimane Se le guardate I giocatori In grado Di eliminare Il dispositivo Sentinella Dopo Avere Pensato La sua squadra Le opzioni Avanza La riscrizione Dà E inverti La riscrizione Dà Ora sono Spettibili Nel dispositivo Di oggetti I giocatori Spariti Da un cannone Attraverso Spettibili Acqua Vengono Tralentati Invitamente Attraverso L'acqua Risolto Un problema Per cui Le impostazioni Deposanti Si ripresenavano Risolto Un problema Per il quale Si significavano Arresti Anomali Quando i giocatori Entravano In partiti Di forza Accitativo In corso Risolto Un problema Per cui Il testo Del dispositivo Manifesto Per la collezione Attiva Il procedista Di classi Ora Costituisce Correttamente L'imposazione Della Minigola Quando Pressione Salute Iniziale E' Imposata Su Invincibile Il solito Problema Di visibilità E collezione Sul bordo Del manifesto Quando il Positivo E' Isabilitato La sentinella Ora viene Rimosso Correttamente Quando il Positivo Viene Isabilitato Durante Il gioco Ed Il widget Di disposizione Che l'ha Il dispositivo Supporta Un creatore Non è più Disregnato Correttamente Di gioco L'inigenza Dello scatto Non è più Infinita Giocatori Possono Avviare E terminare Manualmente La partita Durante il caricamento Nel matchmaking Privato Il giocatore Non viene Non viene più Eliminato Quando Entra In un Veicolo E I messaggi Di interazione Non si bloccano Più Sello schermo Varie Giocatori Su version 5 Possono Assegnare Oggetti Alla Barra Biosecchiativa Utilizzando L2 Più Qualsiasi Potente Tradizionale O frontale BR Versione 21.40 Fortnite Per Dragon Ball Più Laguna Languida Aggelamento Versione 21.40 Della battaglia Di Fortnite Fortnite X Per Dragon Ball Più Il torno Del Laguna Languida Con il camion Di pirata 16.8 2022 Da Il team Di Fortnite Potenza La tua Forza Nella Versione 21.40 Della battaglia Reale Con Fortnite Per Dragon Ball Di retorno Di Laguna Languida E dei Cannoni Pirata E il nuovo Pinnacolo Dependenti Leggi di seguito Per tutti i dettagli Fortnite Per Dragon Ball La tua potenza È scatenata Goku Scatena La potenza In Fortnite Per Marvel Forza Per Dragon Ball Nella Versione 21.40 Leggi L'articolo Del blog Relativo Forza Per Dragon Ball Scopi Cosa A In servo Questa Collaborazione Che comprende Incarica Potenza Scatenata Per aumentare Il tuo livello Potenza Migliore Il tuo livello Di potenza Sblocca Le copie Come il Rosso Decorativo Radar Cerca Sfere E Motto Spry Livelli Pass Battaglia Le Bacche Versus Ti faranno Affrontare Giocatori Rivali Per scoprire Che è Più Forte Dell'Isola Le Oggetti Onde Energetica E Nuova D'oro Kinto Scenderanno Nel cielo Con Di Fulmento La Capsula Corp Il festival Degli Episodio Dragon Ball Super Scoperta Imbarcati Su una nave Da Cosciera Per Rilassarti Guardando Episodio Sessuale Da Dragon Ball Super Intra Quindi La Cerca Delle Sfere Del Drago Sull'Isola Delle Aventure Di Dragon Ball Dai Fondo Le Di Goku Lo Spare Beerus Che Mangia Goku Invece Taburma Beerus Arriva Nel Leggo Oggetti Che Chiamo L'arancio E La Cesta Azzurra Questo Qui c'è Anche Dopo So Vedere Sì Dopo 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 Coraggio E Coraggio E All'arambaggio L'altate A Laguna Languida L'albero Della realtà Trasformato Il Lelibagon Nella Laguna Languida Mosetto Il Pidda Marionaio In questa Rivisitazione Di Un Pdi Classico Il Riturro Del Laguna Languida Porta Con Se Cannone Pirata Quindi Raduna Un'alta Canaglia Oresta Un Solitario Lupo Di Mare Con Tutti Gli Uomini In Coperta Tu E Un Compone Di Squadra Il Giocatore Può Timonare Il Rocambolesco Veicolo Mentre L'altra Si Arrampica Nella Bocca Del Cannone Quest'ultimo Può Controllare La Direzione Del Cannone E Spararsi In Calsiasi Momento Magari Melano Dover Sofforzere O Una Vida Fuga Delle Razzie E Se Veleggi Per I Sette Magli Senza Giurma Se Timoni Il Cannone Pirata Può Sparare Un Numero Illimitato Di Cannone Con Un Tempo Di Ricarica Tra Una E L'altra In Alternativa Può Infilarti Nella Bocca Nel Cannone E Sparti Scusa All'orizzonte Pinacoli Strutturati Ringrazio Tutti Cattori Che Hanno Contribuito Alla Ricordazione Di Pinacoli Per Dentro Nessate Di Amministrazione Alla Conclusa Le tette votazioni I luoghi precedenti Di Tutti Sono Sessi Tutti E Seguiti Progetti Il Ristorante De Block 2.0 Benz Restaurant Di Ben Mac Gli Appartamenti De Block 2.0 Template Appartments Di Charlie Brown Charlie Brown I Negozi De Block 2.0 De The M Building Di Zero Recent Con D'accordo A Vincitore Delle Votazioni Del Quadri 2.0 E A Tutti I Partecipanti Che Hanno Avanzato Proposti Per Corsi Pienacoli Pendenti 90 FPS Sui dispositivi Android Compatibili Quei dispositivi Android Possono Avviare Forte A 90 FPS Se il tuo dispositivo E' compatibile Questa Ops Sarà Imposibile Nella scheda Video Delle Impostazioni Delle Impostazioni Se l'opzione Non è Equilibria Significa Che il tuo Imposibile Non soddisfare I Dei Tecnici Ti Ricordiamo Che Attivare Questa Opzione Potrebbe Consommare La Carica Del Imposibile E Aumentare Le Misure Di Calore Se Dove Essere Verificate Gli FPS Verranno Veduti I Giocatori Impostanti Dispositivi Per cui 90 FPS Erano Già Disponibili I Preci Denzi Dovranno L'opzione Riattivata Non Rafferrò Competizione Gli Oggetti Ondra Energetica Innovadoro Quinto Sono Esclusi Dalle Represe Competitive Come Con Le Excezioni Del Torneo Del Potere E Problema Per Cui Il Buttine De Forze Di Alcuni Duoghi Compariva A diversi Metri In distanza O non Compreva Affatto Il Solito Problema Per Cui A volte I Giocatori Vedevano Uno Sull'otto In Mentale Quando Raccoglievano Un cannone Da Bevute Il Solito Problema Per Cui A volte I Giocatori Venivano Espolsi Della Modifica E Il Solito Problema Perché Impediva La Forte Per Malver Guarda Zero Nuova Sede Di Fumetti Forte Per Malver Guarda Zero Nuova Sede Di Fumetti In Cinque Numero Partire Dall'otto Giugno Sede 18 22 Dall'altine Di Forza Aggiornamento 16 agosto 22 Ecco L'anteprame Dell'oggetto Esettrico Di Fortnet Associato Al Numero 3 Il Piccone Artic Di Adam Adam Antio Il Numero 3 Ci Il 17 Agosto E poi Qua sono 12 Luglio Qua è la Coppettura Di Stark 7 Poi L'altro Junior Parlava Un po' Di tutto Se Junior Consume Spider Man Zero Dovete Oprire Forte Per Marvel Guerra Zero Sabella Con Queste Cose Vecche Che Poi Le Ecco Oltre News Di Oggi Scatina Gogo Scatina Potenza In Forte Per Dragon Ball La Potenza È Scatenata 16 8 2002 Il Mondo Di Forza Non ha Mai Visto Tanta Potenza Nel Gioco Sono Arrivati 4 Possenti E Leggendari Personaggi Di Dragon Ball Super Goku Vegeta Burma E Beerus Guardiamo Il Video Insieme A voi 2 2 2 3 3 3 2 7 9 9 9 10 9 10 10 10 10 Grazie a tutti. 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 5-2-3-6-0-9-0-1 Shenron rivela che è possibile creare il Super Saiyan God quando 5 Saiyan del quale pure serve il proprio spirito in un altro, ma la transformazione richiede più Saiyan di quanti ce ne siano a bordo, almeno finché i video non rivela la sorpresa. Grazie a tutti. 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 Dragon Ball Super puntata 98 The Uncertainty e Universe Desperse 3-1-3-7 9-3-9-1 7-9-9-9 Fin dall'inizio il torneo è immerso nel caos Goku e i compagni del settimo universo diventano presto un bel storio degli altri universi Goku, isolato dalla sua squadra, è circondato numerosi avversari ma quando Vegeta interviene il campo di battaglia sembra d'equilibrarsi Isola dell'avventura di Dragon Ball Preparati a intraprendere un'avventura alla ricerca delle sfere del drago a partire dal 19 agosto 2022 Esplora i luoghi più famosi di Dragon Ball Sprecia volando sull'ato nuovo adoro, Kinto, in un percorso ad anelli al Tempio del Dio Prepara Chibi a casa di Goku Esplora una gara a ostacoli nella stanza dello spirito e del tempo Sono solo alcune delle sfide che ti aspetta durante la missione di raccolta delle sfide del drago Quando ti senti all'altezza, metti alla prova la tua forza nell'arena di battaglia PVP aperta Torneo Tenkaichi O continua a esplorare Com'è lunga raga Torneo del potere Dai fondo alle tue forze Scatenati nel torneo Nel torneo del potere che si svolgerà in tutte le regioni del 18 agosto 2022 Nella playlist competitiva Compiti in questo torneo di battaglia reale a coppe per avere la possibilità di si vincere i seguenti premi Premi Miglior 5% nella classifica principale Emoticon vincite in furiato 8 punti guadagnati nella classifica principale con il sendardo ideogramma di Goku 3 punti guadagnati dall'aliminazione con un'orna energetica Spray, virus, che mangia? Gioca fino a 10 partite a Fortnite Entra la finestra temporale di 3 ore della tua regione Le tempizze che tratti dell'evento per ciascuna regione sono attualmente riportate all'interno del gioco Con una scheda compiti Passo per la prova e cerco di fare più ad alta voce Il torneo del potere prevede inoltre una classifica un'orna energetica aggiuntiva per le eliminazioni effettuate con la potenza un'orna energetica L'autenticazione del tuo vattore attiva e verificare sul loro account epic e avere un livello account 50 superiore Puoi trovare il tuo livello account nella scheda carriera all'interno di Fortnite Per tutti gli italiani di clienti di unità e consulta la pagina del regolamento ufficiale del torneo del potere Negozio oggetti Dragon Ball Disponibile ora nel negozio oggetti Goku, un Saiyan vissuto sul pianeta Terra che ha protetto da numerevoli nemici Il suo nome Saiyan è Kakarot Ama combattere e più l'avversario è potente più si carica Seguendo il torneo del potere scopre che l'universo offre ancora numerosi combattimenti immibili che non ha ancora affrontato E salì naturalmente per passare al livello superiore Includi gli alternativi Super Saiyan Super Saiyan Blue e Ultra Istinto e le mod integrata Caricamento Goku Le mod caricamento universale aiuta separatamente Vegeta Un ricognoso principe Saiyan con un'intensa rivalità con Goku Era un guerriero crudere e spettato Ma affrontare Goku ha insegnato l'importanza di avere un buon cuore Vegeta si allena per sconfiggere Goku Ma si sente minacciato da Freezer Che dopo che è esercitato in seguito al torneo del potere Includi gli stili alternativi Super Saiyan, Super Saiyan Blue e Super Saiyan Blue evoluto E l'emote integrata Caricamento di Vegeta L'emote caricamento universale è venuta separatamente Bulma La prima amica di Goku Bulma cerca le sfere del drago insieme a Goku E compagni e compagni e compagni e compagni e li salva spesso dai guai Fiede il fondatore della celebre capsule corporation E l'emote che cede il radar da cerca stere e un genio nella meccanica Emole di Vegeta e Marley Trunks Includi lo stile alternativo da camicie da laboratorio Virus Lo conosco! E' quello cattivo penso Quello viola Dio della distruzione Incaricato di mantenere l'equilibrio dell'universo Se di cattivo muore risorge tutti i planeti e le forme di vita che incontra Arrivato sulla terra conosce Goku E lo affronta sotto forma di Super Saiyan God Ma finisce per accompagnarlo in molte avventure successive Ama i piatti esaporiti e i pisolini Dossi decorativi Bastone? E' giapponese Non lo so Penso che si chiama Naioi Bastone del potere Poche parole in italiano Un bastone misterioso che Goku ha ricevuto da suo nonno Gohan Giusto questo Lo so che è giusto perché ho sentito Pesce oracolo Lo smemorato pesce profeta di Virus Carapace dell'eremita della tataruga Indossato dall'eremita stesso Piccone deltaplani ed emot Piccone bastone Bastone del potere Un bastone misterioso che Goku ha ricevuto da suo nonno Gohan Piccone bastone dell'eremita della tataruga Usato dall'eremita stesso Del terpano nuvola d'oro Quinto Un nuvola misterioso che Goku ha ricevuto dall'eremita della tataruga Del terpano è una specie spaziale Utilizzata principalmente per invadere altri pianeti Emoto caricamento Mostragli cosa sa fare Emoto fusione Ricorre tutti i passi del balletto E cosa si prende dal balletto? Emoto chi potenziato Metti in mostra la tua potenza L'emoto caricamento in azione Guardiamo il videozzo Nemoto fusione in azione Aspetta Vai Andiamo Commiascolo I giocatori I giocatori avranno opportunità di ottenere Questi soggetti nel bundle Il bundle Goku e Beerus Include il costume di Goku Beerus ricorrativo bastone Beh Bastone del potere Il peccone bastone del potere Nemoto caricamento di Goku Il caricamento pesce oracolo E la schermata di caricamento Potenza scatenata Questa immagine è Schermata di caricamento Potenza scatenata Beh ecco l'immagine Il bundle Vegeta e Bulma Include il costume di Vegeta Emoto caricamento di Vegeta E il costume di Bulma Il bundle attestatura di Dragon Ball Include il detrappano Nuvola d'oro Quinto Il detrappano Ambricella spaziale Remote fusione Il piccolo evasione Delle remita Della trattaruga E il rosso ricorrativo Carapace Delle remita Della trattaruga Copyright No Ma che è copyright? Bird Stadio Slash Su Su Il giapponese Su Esciatoio Animation So parlare giapponese Ragazzi L'ho imparato Quindi ragazzi Come sempre Dopo questi 37 minuti Quasi 40 Di video No Quasi 30 Di video Stemmelo No qua Come sempre Spero che vi sia piaciuto Se il video Mi raccomando Mi piace Commentate Condividete Il secco del canale A te Della campanina Seguimi su Instagram Che ho c'è la cd 17 Terrabasso Y Terrabasso Officiale Ragazzi Ma c'è il vostro cd E' tutto Ragazzoli Ciao